AHHHHH NO 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 Ma salve a tutti ragazzi, come andiamo? Oggi sono con il signor Paolo E andremo a giocare in questa bellissima mappa horror Che è... Stalker Che bello! Let's go! Ci caccheremo addosso Allora, ve lo dico già, l'ho già provata questa mappa Però non l'abbiamo finita, ci abbiamo fatto giusto un po' all'inizio Infatti, potremmo non prendere certi jumpscare Però, dopo un punto in poi, potremmo spaventarci molto Ok, siamo sulla mappa Io non sono ancora entrato Oh, oh, oh Mi ha fatto l'animazione Mi sta facendo staccavo di animazione Animazione Ehm, ok Atti Mi sono conficcato dentro il tuo corpo Ma Oh, ok Ci siamo Che bello Allora, qua non c'è nulla, penso Perché con l'inizio... Ah no, sì, dobbiamo prendere Una chiave Prendiamo questo Forse mi ricordo dov'è la chiave, è capito Ah, sì, ok, ok Oh, qua c'è un qualcosa Ho trovato un qualcosa Bene Bene Ah, dobbiamo mettere il power Ah, ok Già l'ambientazione Dov'è il power? Ah, qua Ok, ok, ok Top, top, top Sì, già fatto, già fatto, già fatto Ah, ok Ora dovremo poter passare Ecco Mi devo preparare Questa è l'unica cosa che mi ricordo Questa è l'unica cosa che mi ricordo Ah Ma credo dov'è? Qua, no? No, era... Mi sembra... No, questo non me lo ricordo Ah, è qua Ok Non so come non l'abbiamo vista Che so la storia Ok Ah Abbiamo liberato tutto Qua non c'è niente Secondo me qua c'è... Uno spavento No? Ok No, questo non si può Ma do che infarto Te e quella skin di Alien, maledetta L'ho messa apposta Ah, dobbiamo aprire la vent Ah, aprire la vent Te Allora Qua c'era il piede di porco Sì, appunto Io sto zitto perché so che prima o poi mi arriva un jumpscare Sì, sicuro No, non sta parte, no Io oggi sta parte Manca i rumori Vai, passa avanti te, no? Stai facendo il video, quindi Perché? Tanto... Non mi fa andare avanti Bro C'è il jumpscare Porco cane Eccolo, lo sapevo Bro Vabbè dai, non è come... Almeno non ci stai seguendo nei condotti No, è vero, è vero Quello sarebbe proprio molto brutto Ah, io mi ricordo che... Ecco qua, dietro il quadro Ah, qua dietro Ormai sono un esperto Ormai sei un esperto di questa mappa L'abbiamo fatta 40 volte Te, io l'ho fatta una volta Sì, è vero, però Ma ti non so nulla di questa mappa Eh... Sai che... Mi rumori sottofondo Aaaaaaah Ok, qua siamo al sicuro Ok Allora, qua cosa c'è? Una chiave Chiave? Sì, ma prenditi un infarto Stupido mostro Io... Facciamo che... Chiudo la porta Sì, 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 fai così Allora Ok, qua bisogna attivare questo Ma l'hai già trovato Sì, 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 sì Sono già sceso Allora, qua bisogna aggiustare questo Poi qua Ci hanno i fili Ma non capisco dove siamo Siamo tipo in un sotterraneo Sì, sotterraneo Ah, qua c'era il gasolio L'hai messo Ah, qua Sì, sì, sì Ok Ah, ok Ah Posso davvero avere un piccolo infartino Ah, è il puzzetto Oh, mio Dio La spada La spada Non sono armato Perché non è sp... Ok Non era spavolato No, no Io lo so cosa è Che cosa? Preso paura? Ecco Quello che dice il mio naso Bella la porta che si apre addosso a me Allora Non mi sono spaventato Che cosa? Tu prendi quella roba lì Poteva esserci di peggio, dai Allora Ma per ora mi sembra tutto bene Finché non ci insegue Sì, finché non ci insegue Find something to force the door Summiting Summiting One eternity later Ah, ma è... Ah... Ok, ok, va bene La scuba Blocchi te? Ok, top Allora Allora Sono veramente Questo non mi piace affatto Disabile Senza offesa Questi cosi si illuminano Rocks Eeeh Si gode Teniamo la leva Beh, per ora non c'è granché Se deve essere sincero Tranne qualche jabs Che potrebbe esserci In te Tranquillo che presto Io so già Che cosa succederà Oh, mio dio Scotch Accendiamo questo Bellissimo computer Degli anni Che bello In B800 Open the secret door Bravo No, dai Per ora non sembra Troppo, troppo Ci sono mappe ben peggiori Sì, sì, sì Che poi dobbiamo provare Non mi interessa È vero, è vero, è vero Quale porta Ah, aveva aperto C'era una vent Ah, c'era una vent Ok, ok Aspetta Avevo visto una vent Ah, eccolo Ok Vai avanti te No, no, no Tranquillo Vai, vai avanti te Stai facendo tu il video Tranquillo È giusto così Poi magari non ti prendi Jumpscare È importante Eh, vai avanti Guarda che grido poi Allora ti picchio Veramente Ah, no, no, no Ah, no, no, no Ah, no, no, no Ah, no, 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 no, no